un saluto agli amici di mitico snake benvenuti in questo primo video del 2018 allora in un posto precedente non mi ricordo quale qualcuno di voi mi aveva chiesto se io avessi un'attrezzatura per girare i miei vlog si possedgo anche un'attrezzatura per girare i miei vlog poca attrezzatura ma di quella buona allora partiamo subito dal dispositivo di video ripresa e per questo non posso fare altro che affidarmi al mio affidato samsung galaxy note 3 per chi mi segui da un po saprà sicuramente che il mio galaxy note 3 a causa di una caduta si è danneggiato gran parte del dispositivo ma la fotocamera è rimasta intatta quindi la utilizzo sia per girare i miei vlog sia per girare alcune clip per quanto riguarda i miei video come potete vedere da queste clip la funzione della fotocamera è rimasta intatta e riesce ancora a lavorare molto molto bene e non posso che essere soddisfatto ovviamente con il firmware installato non posso fare altro che affidarmi all'applicazione di sistema un'applicazione che offre svariate funzioni e permette di eseguire alcune modifiche prima di iniziare una registrazione video e dato che a miei video ci tengo ad avere anche un audio di buona qualità non posso far altro che affidarmi al mio mini microfono lavalier a clip con riduzione del muore attiva ed è proprio questo qua che sto utilizzando in questo momento nel momento in cui lo vado a collegare al mio samsung galaxy note 3 avvio l'applicazione della fotocamera e nel momento in cui vado ad eseguire una video ripresa viene riconosciuta dall'applicazione fotocamera di sistema e posso cominciare a registrare i miei video anche con un audio di buona qualità quindi devo dire che questa attrezzatura nel momento in cui devo girare qualche vlog la metto in modo tale da avere anche un audio già sincronizzato e in post produzione non devo fare nulla quindi se anche voi avete un'attrezzatura anche poca ma di quella buona fatemelo sapere qua in basso nei commenti intanto voi continuate ad iscrivervi al canale lasciate soprattutto i vostri like commentate attivate le notifiche e condividete questo video e se proprio volete strafare raggiungete anche i miticosnack sui vari social soprattutto su instagram dove sono molto molto attivo e tutti questi link li trovate qua in basso in descrizione e noi ci vediamo sempre qui sul mio canale youtube con un prossimo video ciao 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 ciao